che vuol dire che ti sei dimenticato qualcosa nel primo decreto, se no non faresti il decreto sicurezza bis, deve esistere questo, i fondi per gli accordi di cooperazione e sviluppo con i paesi di provenienza, per avviare il sistema dei rimpatri, ma non accetto da nessuno che in queste ore, anzi in questi minuti, stavo leggendo che il ministro dell'interno dice che se stanno sbarcando dalla Sea-Watch in questo momento i migranti è perché i ministri 5 Stelle hanno aperto i porti, il tema è che quella nave è stata sequestrata dalla magistratura perché evidentemente ha violato delle regole nel Mediterraneo, l'ha sequestrata la magistratura e quando c'è un sequestro si fanno sbarcare obbligatoriamente le persone a bordo, si legga le leggi dello Stato che lui rappresenta e non accusi il Movimento 5 Stelle perché noi sulle politiche migratorie abbiamo tenuto la linea del rigore e stiamo chiedendo a tutti i paesi europei di fare le redistribuzioni, redistribuzioni che i suoi amici dell'est Europa non vogliono, ma che noi chiediamo, non accetto che si accusi il Movimento sulla politica migratoria che abbiamo tenuto con rigore in questi mesi e che ha funzionato. Detto questo il 26 maggio avete, quando c'è vo c'è vo, come si dice, scusate.